Musica Buongiorno a tutti i guardiani, bentornati su Geometripa e bentornati su Destiny E con questa intro così epica, così MLG, che vi annunciamo che Destiny non è morto, o almeno sulla carta non è morto Perché c'è stata la stream il 23 marzo, mercoledì, che ufficialmente è questa sera adesso In cui c'è stata la stream di Bungie su Twitch, nel quale ha fatto vedere le nuove cose da fare E abbiamo l'update del 12 aprile Innanzitutto cominciamo col botto, aumento di luce L'aumento di luce è quanto? A 335 di punti luce Non 330, né 340, besti 335 completamente a caso, negli di mezzo Non so in base a cosa hanno scelto, ma va bene tutto In seguito sono state aggiunte diverse nuove quest Che possiamo prendere nell'atollo da Petra Venge e da Variks Quest'ultimo avrà anche delle missioni da fare, nuove missioni introdotte da fare in queste quest C'è stato anche l'assalto nuovo introdotto, che si chiama Carice Gorrotto Nel quale dovremo combattere i corrotti che, senza Oryx che ormai è morto Vagano per l'universo senza un padrone in preda al panico, praticamente In questo assalto nuovo dovremo affrontare un capitano corrotto che è Malok Malok lo stesso della presa Presa di Malok fucile a impulsi troppabile da Omnicool Che è lo stesso Non si sa bene la lore qual è, però potrebbe dare spunti molto interessanti a mio parere In seguito Verrà aggiunto anche nella playlist dell'avanguardia tra gli assalti eroici L'assalto vecchissimo dell'anno 1 Che era stato praticamente cancellato, cioè quello del Trelato al Conte, Axor Diciamo nel Casalo d'Inverno su Venere Che era scomparso e che invece adesso viene ripreso in tema corrotto con Axor, Trelato al Conte, corrotto E' sempre come al solito un riciclaggio di vecchi contenuti che vengono riproposti Però può dare varietà in qualche modo Staremo a vedere se ci annoierà dopo una volta o due Altra cosa, hanno fatto vedere il guardiano corrotto in azione O più o meno, più o meno in azione Dovrebbe essere quindi secondo me un ufficiale shader Che devo dire assolutamente perché è spettacolare, spettacoloso E' fighissimo Non hanno parlato minimamente, cioè facendo vedere queste immagini Ma non ne facevano assolutamente cello come se non esistesse Ma io l'ho notato e penso anche a tutti voi Ed è veramente epico Cosa può dare Varix oltre a questa quest? E assolutamente dà accesso alle nuove prigioni Sì, perché ci sono le nuove prigioni Saranno introdotte le prigioni corrotte In una playlist completamente diversa da quella dell'anno 1 Che rimarranno così come sono per poterle rigiocare quando si vuole E infatti in Adadolo ci sta una nuova destinazione con le prigioni corrotte E ci sta la prigione a livello 41 Che è a luce 260 Che dovrebbe essere quindi come le prigioni al 28 Quindi quelle settimanali che fai tanto per acquistare reputazione O fare determinate quest Nel quale potremo completare diversi tagli e settimanali Che c'è da Varix Che c'è appunto reputazione Varix vende anche il sigillo degli anziani Il sigillo degli anziani Che adesso durante la stream parlavano di qualche sorta di esclusiva PlayStation Non ho ben capito il motivo Spero non sia Almeno spero per tutti gli Xboxari Che non sia così Perché questo sigillo Dà l'accesso alla prigione a livello 42 Prigione a livello 42 Che è a livello minimo di luce 320 Fino ad arrivare a 330 A quanto ho visto i nemici E sono a luce 330 Non 335 Il drop è 335 In questa prigione a livello 42 Non ci sarà il mischmaking Dovremmo trovarci i nostri due compagni di squadra Come Scolast e le altre prigioni che hanno uno Ci saranno 3 modificatori random Che varieranno ogni settimana E ci saranno anche 3 diversi boss da affrontare In questa prigione Che saranno sempre gli stessi In la stessa rotazione Ogni settimana Cioè una settimana ci saranno 3 boss Sempre uguali Nel stesso ordine La settimana successiva cambieranno boss Con un ordine diverso I vari boss che potremo affrontare Sono sia corrotti che non corrotti Quelli che ci hanno fatto vedere Sono un Minotauro corrotto Che fa quella specie di cosa Che fa Quodron odiatissimo Che odiavo Che ti mette nella prigione Che a quanto ho visto non ti ammazza O meno non ti ammazza In tempi molto brevi come Quodron Ma che ti puoi shottare molto facilmente Anche con una primaria Non per forza con pompa E il secondo boss Era un Minotauro Eh sì Era un cavaliere corrotto Che sparava il fuoco Normale ai cavaliere Ma tipo Per molto più tempo E molto più a lù Molto più gigantesco Come fiamma Però non mi è sembrato troppo tosto L'ultimo boss Era uno Sulla terra Con i caduti O meno sulla terra Solo con i caduti Era uno con i caduti E ci stava sempre il servitore Come nell'anno 1 Però questa volta Con poteri diversi Cioè quelli di Deletrasportarsi In giro per la mappa Completando Queste prigioni A livello 42 Luce 320 Si dovrà completare Il sigilo dell'anziano Che volta a darci l'accesso Ci darà anche I drop migliori Perché Completando due challenge Le chiamano Che sono Una 30.000 punti Che rappresenta Il punteggio massimo Raggiunto Durante la Durante una Una try Cioè Durante una run Della prigione E una cumulative points Che sarebbero I punti cumulativi Che fai Durante Le varie prigioni Che fai durante la settimana Perché Questi punti E anche i drop in sé Come in grammi Marchi Tutto ciò che Che è relativo A completare La prigione Sarà illimitata La settimana Potremo farle Quante volte Ci vorremo E ci darà sempre Drop L'unica cosa Che è Settimanale Appunto Questo sigillo Quando Avremo raggiunto Il punteggio massimo Di cumulative points Potremo avere Il nostro Drop migliore Con la luce Molto alto Fino a 335 E se Se ho capito bene Per i cumulativi Il drop sarebbe Un'armatura A livello alto Invece Per la high score Per la high points Ci sarà L'arma Che è infatti Il giocatore Che ha completato Che ha fatto vedere Più o meno Insieme alla sua squadra E questa prigione Ha droppato Un cecchino A 335 Che nel Tra i bonus E tra i perc Aveva due cose rosse Mai viste prima Che non hanno fatto vedere Cosa fossero Penso faranno vedere Settimana prossima Con La stream Che riguarda L'armamento Le nuove cose da ottenere E non si sa bene Cosa servono Quindi lo scopriremo Più in là Si sono soffermati Molto Riguardo a questa prigione Hanno detto Molti dettagli Innanzitutto No Hanno già tolto Diverse cose Che potrebbero far farmare Giocatori punti Per farli fare in più fretta Per esempio Uno poteva Metterci tanto A uccidere il boss Così Uccidendo i nemici Perché innanzitutto I punti si potranno Conquistare Uccidendo i nemici Come se fosse Un'attività di grogiolo Avremo 100 punti Per la kill 50 per gli assist Sì anche gli assist Ovviamente E avremo anche punti bonus Se uccideremo Con corpo a corpo Granate O anche Uccisioni con precisione Ogni settimana Si avrà un modificatore diverso Che darà più bonus Riguardo a queste Uccisioni con granate Colpi di precisione Corpi a corpo E super E anche Generare spari di luce Darà Punti Della challenge Che permetterà Per esempio A titani difensori Di fare punti Con il loro super Anche senza uccidere i nemici Quindi mettendoci tanto A uccidere i nemici E quindi facendone Sponare di più Potevamo fare tantissimi punti Senza uccidere il boss E questo In qualche modo Fregava il sistema E invece Il gioco Se non uccidiamo il boss Entra in un tempo limite Comincia a toglierci i punti Quindi dobbiamo Sbrigarci a finirlo Prima che ce li togli tutti E quindi Questa era una Tecnica Che hanno utilizzato Per far fronte A questa Possibile strategia Un altro modo In cui si poteva farmare Era di fare wipe Quindi si porta Piano piano Il boss A poca vita O comunque Non gli spara per niente Si spara solo i nemici Per fare punti E poi Ci si ammazza Per poi ricominciare Fino a che non si è raggiunto I punti necessari Questa cosa non si può fare Perché se ci sta wipe I punti tornano Si azzerano O almeno si risettano A I punti che avevi raggiunto Prima di quel round Perché Dopo un wipe Ritorni all'inizio del round Non di tutto quanto Ovviamente Solo all'inizio del round Ancora arrivato E i punti Sono gli stessi Che avevi prima di iniziare Quel round Quindi non si può accumulare Stessa cosa Se vuoi uscire Dalla partita E rientrare Si avrà preset Dei punti E quindi Anche in quel modo Si possono farmare Per avere l'arma Quindi bisogna avere 30.000 punti Che è l'high score E si ha l'arma assicurata A livello molto alto Per aggiungere Invece Il Cumulative Ho visto Sono circa 90.000 punti Quindi Vedendo che loro In una run Hanno fatto 30.000 punti Anche di più 32.000 E in circa 3 volte a settimana Con un personaggio Potremo fare La cumulative Points Che quindi È una cosa Abbastanza impegnativa Non so quanto tempo Sarà necessario Per fare una singola run Doro ci hanno messo poco Ma non so se erano A parte erano tutte A 335 Quindi era molto più facile Per loro E non so per noi Quanto Almeno all'inizio Come sarà Hanno detto Che per circa 4 mesi Ci sarà sempre varietà E non si ripeteranno Mai le regioni Come sono Come sono già avvenute Quindi ci sarà Sempre varietà Per 4 mesi di fila E questa è una cosa buona Però non lo so Se queste regioni Possono essere Noiose a lungo andare Però intanto È sicuro qualcosa Che aggiunge Varietà al gioco Che può farlo rinascere Dopo un breve periodo D'assenza Ultima cosa Ho visto troppare Un emblema a fiore Non so se è l'unico Troppabile Dalle prigioni Però Fa abbastanza schifo Questo qua Però Magari ce ne stanno Altri di più carini E questa era la stream Che faceva vedere Le nuove cose da fare Dopo l'aggiornamento Del 12 aprile L'appuntamento A settimana prossima 30 aprile Quando ci sarà La stream Sulle nuove cose da ottenere Quindi drop Equipaggiamenti E inventario A presci In generale Noi ci becchiamo Per con la data E mettete like E iscrivetevi Se non l'avete fatto Noi ci becchiamo Alla prossima Ciao